Oggi ragazzi su Roblox diventeremo dei animali e ci stanno un botto di animali che potremmo divertire Sali, adesso vi faccio vedere l'animale più bello che posso diventare, ovvero uno scimpanzè Guardate, oddio Uga, 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 tonga, banga, uga, bunga, tonga, banga Zoe guarda, purtroppo lei ragazzi non parla perché i cavalli non parlano ma i scimpanzè parlano Oddio, ma Violet, che cos'è Violet, cosa è diventato? Un capipara rosa amici Oddio, un capipara rosa Oddio, guardate Possiamo fare, andiamo, venite Aspetta, si sta facendo notte, entrate qua dentro, entrate qua dentro Aspetta, vediamo Aspetta, io sono lenta Oh, guarda, c'ho una mela E con la mela, posso mangiarmi la mela? Io ho la banana No, Zoe, però non dire queste cose Vediamo, ragazzo Ho un leone Ma guarda cos'ho Aspetta Oddio, sono un cacchio di leone Ma tu non ce l'hai questo Adesso posso salire, vediamo Io ho l'erbetta Oddio, guarda Guarda, Violet, sali, 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 Violet Arrivo, arrivo Come si sale? Adesso mi porta in giro Ma che cacchio, oddio È così tanto cursed questa cosa che non ci sto capendo niente, raga Oh, mio Dio Allora, andiamo a prendere le monete Ah, quindi il nostro obiettivo è quello di prendere le monete? Ah, boh, penso di sì Ah, ma guarda, ma notate questa cosa, ragazzi Oddio Praticamente il bioma e la zona Ma questo è una zona segreta Ma io ho trovato subito la parte segreta Ma non ha senso tutto questo Aspetta, cosa sono queste cose? Sembrerebbero essere tipo... Che cavolo sono, raga? Ci possiamo picchiare Non è la più palida idea Aspetta, proviamo Ok, non va 5k di livello 5k di livello 5k di livello Allora ci dovrebbe essere un modo per... Aspetta, entrate dentro Ragazzi, dovete venire a vederlo assolutamente Ma che cacchio è? È una veni... Ma cos'è? È un boss? Non è un boss? È un boss? È un essere vivente È un essere vivente? Ok, perché non capisco Altrimenti... Ah, guarda, posso mangiarmi il cibo Ok Io ti posso picchiare, Sbri Non lo so Ma si... Come hai fatto? C'è il pvp allora Oh, cavolo No, vabbè Ma questa cosa non la sapevo Ma ti amo È scioltato Piccola, non posso Vediamo se ci sono tipo Dei volatili Dei pappagalli Però non li vedo onestamente Posso diventare A 5% di possibilità Niente, ok Natale 2023 San Valentino 2024 Posso diventare un'aquila? Vediamo Ma posso volare? Un'aquila? Ah, è un gatto un topo No, però non posso guidare Ah, però posso correre Non puoi guidare l'aquila, mannagina No, non posso guidare l'aquila Oddio, che è successo? Io c'ho un pet Puoi fare un pet Perché è un pet oragno Ragazzi, ma possiamo creare la casa? Oh, posso creare la casa? Ok, creo una casa Ecco, ho fatto la casa Oh, venite nella mia casa Nella mia bellissima dimora Posso... Ho fatto un pochino piccola Oh, guarda No, ok Non fanno così le ali Oh, sì Oddio, è troppo bella casa mia E qua mi vai dove mi faccio il bambino Tu la devi roma Dai, dai Però se mi hanno continuato ad ammazzare io Ma come faccio? Il problema è che io Io stavo cliccando a casa E giusto, giusto Mi è passato davanti Aspetta, faccio una cosa Stufato di cavallo Vieni qua Vieni qua Vieni Perché mi arrabbi con gli alberi Ma cosa sei? Un montone o un cavallo? Invita clan Come faccio? Perché non riesco ad ammazzarti? Perché scappo Trasporta, invita il clan Dai Oh, facciamo un clan Dai Accetto Facciamo un clown Un clown Ora diventa un serpente Oh, che figata è il serpente Ma dove sei? Non ti vedo Arrivo, 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 arrivo Eccomi qua Vediamo se posso ucciderti Io faccio la danza del ventre Ma che cacchio? Come fai a farlo? La 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 Ma che stai facendo? Tanto avessi scritto tacco Ma come faccio? Dove si è scritto tacco? Oh mio Balla Lo premi Lo premi Controlli, attacco Ah Ma un po' Guardami Un po' Ah Sei finito, mi sta ammazzando Mannaggia a tezza che mi ha ammazzato prima No, no, vedi che io Io sto Sto camminando in aria Ma non riesco a farti fuori Ma come fai a camminare in aria? Anche faccio Salve Oh Dabbo Ora dormo Dabbo Dai Dabbo Io sto facendo Tipo Un po' Un gannio Sai Ma che cacchio? Ma che cosa? Ma cosa sta accadendo? Ma sta facendo il ballo Non lo so Che cacchio? Ma non ce le ho ste cose Fammi vedere altri animali Ma Oddio Bello Aspetta Come hai fatto prima? Violet Aspetta Allora arrivo Allora arrivo Ok Violet chiamami Aspetta Mi sono Dai 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 Anche io Dai via Di ritorno Di ritorno Di ritorno Di ritorno Arriva 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 Ma Zola La smetti Guarda vai Le tre vedi Ci sei Sì Chiamami Spreaser Eh Spreaser Ma come fai? Aspetta che danza Che faccio Aspetta ma ci stanno altre cose Quindi controlli Trasforma fuoco Fuoco Ti prego È troppo Curso Questa cosa Che sto facendo Devi vedere altri Altri cosi Vediamo Vediamo i pinguini Vediamo i pinguini Vediamo i pinguini Io sono curioso Di sapere dei pinguini Aiuto Guarda Ma Ma perché Tu riesci a ballare Io no Non mi fa niente E che Non lo vedi Tipo il tizio Che balla A sinistra Controlli Uccisioni E titoli Ah sì Non in controlli Ah sì Dove c'è tizio E balla Sì Let's go Let's go Sì è così Che si fa Oddio Salsa Ballo la salsa Ah Mamma mia Mamma mia Questi sì Che stanno Ballas Vediamo Crea un'altra casa Crea un'altra casa Crea un'altra casa Vediamo questa qua Oh Questa ci si che ci sta Qua ci starebbe bene Un leone Animali domestici E non ci stanno Animali domestici Oh un axolotolo Ma gli animali domestici C'è di fianco Quindi non solo C'è un animale Ma ci puoi avere Anche l'animale domestico Sì Ah cacchio Aspetta Qualcosa mi dice Ti dovremmo Aventare di potere Ma come? E non lo so Perché d'altro Puoi sconfiggere Certe creature Però hai la possibilità Di vincere delle skin Tipo quella del centauro Ah quindi dobbiamo Praticamente andare Ad uccidere le creature Ma io mi sto divertendo Troppo a spinnare in aria C'è sto suono? Non lo so Cos'è? No non lo voglio Oddio ma cos'è? Ah ma che casino Vaga Aiuto Ma è sto tizio? Ah finalmente Ahia Ma sono diventato un cubo Ragazzi Mi aiuto No mi ha ammazzato In due secondi Aspetta Ti penso io Ah sta Che casino Ma è fortissimo Ma è fortissimo Ma è fortissimo No si Ci ammazza in due secondi Aspetta no Devo tornare a cavallo Aspetta No vi bara Ma non ce la faccio più Allora Non ha capito niente Questo qua Non ha capito niente Da due cavallo spin Gary aiutami Gheri aiutami Cosa devo fare Oddio ma c'ho l'axolotel Che lo sto soffocando per terra No Guardami Sbri Vieni qua Fermo Guardami Sì Oddio E quindi non l'ho capito Cioè Però guardate Quello ragazzi È praticamente La zona Del Basta Che cavallo Non ce la faccio più Vero Ah io non posso Quindi devo prendere l'animale E combattetemi No non stavendo da me Vole ammazzarmi Scappa Però un tigro Devo allontanarmi Devo allontanarmi Devo allontanarmi Devo allontanarmi Mi faccio a sentire L'ho anche da qua in fondo È impossibile Ma infatti Lo sento Non lo sentiamo Allo spawn Ora veramente Ma allora Ma allora Cioè Io mi posso andare Più lontano possibile Ma lo sentirò Per sempre È una roba Aiuto Mi si è avvicinato Mi si è avvicinato E mamma mia Se l'ho sentito forte Maron Santi Posso mutarlo? Oddio Ragazzi Spero che questo video Divertentissimo Vi sia piaciuto Mi raccomando Dato a guardare Questi altri video Noi ci vediamo In un prossimo Noi prossimo video Ci si becca Ciao ciao Svettila Svettila